Noi difenderemo la nostra isola, quale che sia il prezzo da pagare! Combatteremo sulle spiagge, combatteremo sulle piste di atterraggio, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline. Non ci arrenderemo mai, perché senza vittoria non può esserci sopravvivenza! Oggi il dibattito sulla plastic tax è se farla partire oppure no, se far perdere voti oppure no. Io dico soltanto che i politici guardano le prossime elezioni, gli statisti guardano le future generazioni.